Raccontare per immagini quello che intere popolazioni stanno vivendo a causa della guerra con migliaia e migliaia di esiliati che cercano rifugio in Europa per loro e per i loro figli, non solo sfidando il mare e sbarcando sulle coste italiane ma anche viaggiando via terra. E questa è la testimonianza diretta che arriva dal Libro dell'Esodo realizzato con l'immagine del reporter di guerra Luigi Ottani curato da un'autrice ed attrice teatrale fanese Roberta Biagerelli che l'associazione Amici Passaggi Festival presenta come suo primo evento dopo la sua recente formazione. Allora Amici di Passaggi presenta un'iniziativa che ha una finalità importante quella di mostrare con immagini e con documentazione un esodo, una transumanza sotto i nostri occhi. Esatto, Amici di Passaggi con questo primo evento vuole testimoniare un passaggio importante del nostro mondo e della nostra epoca, il passaggio appunto alla transumanza umana. di chi esodato dai paesi in guerra deve raggiungere la nostra Europa e la raggiunge non per mare ma per terra. Quindi questo libro testimonia proprio l'impatto che queste persone hanno purtroppo anche con il filo spinato e i bastoni della polizia al confine dell'est dell'ex Jugoslavia, quindi la Macedonia. In concomitanza di questo primo appuntamento dell'associazione parte contestualmente la campagna tesseramento. Per chi diventa socio sono in serbo una serie di plasse di tutto rispetto, avendo un posto privilegiato durante la manifestazione, prenotando il posto o partecipando alle cene d'autore ed avere particolari agevolazioni sull'acquisto delle pubblicazioni ed una copia autografata dell'opera da parte dell'autore.